Ancora paura in costiera amalfitana dopo i cedimenti di domenica scorsa a Positano. Materiale franoso si è abbattuto nella spiaggetta di Conca dei Marini. Le pietre sono precipitate staccandosi dalla parete rocciosa sovrastante. Panico tra i bagnanti che hanno udito un forte boato. Poi la nuvola di polvere ha ricoperto l'arenile sul posto. Gli uomini della capitaneria di Porto di Amalfi ha lavoro per mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il dissesto idrogeologico in costiera non si ferma dunque il sindaco di Positano. Nel corso della trasmissione di Ottociane il punto di vista condotta dal direttore Pierluigi Melillo aveva lanciato l'allarme. Io lo dico ormai da anni. Ci vuole un intervento sede su tutta la costa di Amalfi. Sper partire un intervento dell'ANAS di circa 6 milioni e mezzo che coprirà il comune di Positano, Conca, Furore e Amalfi. Ma è una cuccia che deve essere l'inizio di una programmazione seria che la regione Campania e il governo centrale devono mettere a disposizione di un posto incantevole, la cartolina della Campania e dell'Italia. Importante però anche far ripartire il turismo nel post-Covid. Oggi ci troviamo con un turismo di prossimità che è chiaramente molto più furto, molto più intenso nel fine settimana. Non c'è un'azienda che non ha riaperto dai primi di luglio. Siamo, diciamo così, da questo punto di vista un paese molto attivo. Abbiamo messo in campo tutte le iniziative per far sì che Positano sia sempre un'attrazione particolare per tutto il mondo. Grazie. 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 Grazie.